Buongiorno, benvenuti al TG2000, andiamo subito a vedere come si muove l'epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si contano poco più di 27 mila nuovi casi, ma come sempre avviene nei fine settimana il numero di tamponi effettuati è molto basso e questo condiziona i dati. In calo i contagi e il numero anche dei morti. Letizia Davoli. Forte calo dei nuovi positivi al Covid-19 in Italia, ma è solo la conseguenza dell'effetto weekend del calo dei tamponi legate alla chiusura domenicale dei centri di test. Appena 152 mila infatti i tamponi effettuati ieri, 42 mila meno rispetto a sabato, che hanno fornito 27 mila e 354 nuovi positivi al Covid-19 contro i 33 mila di ieri. Nonostante il calo, quello che conta, come sempre il tasso di positività, che mostra invece un lieve aumento da 17,4 a 17,9%. Calano i morti da 546 a 504, calano anche da 649 a 489 nuovi ingressi in ospedale e da 116 a 70 quelli in terapia intensiva, in fortissimo aumento da 9 mila a 21 mila i guariti. E proprio le terapie intensive oggi sono state al centro di una dichiarazione molto discussa del commissario Arcuri, secondo cui la pressione sui reparti non c'è. I posti infatti sarebbero 10 mila, addirittura 11.300 dal prossimo mese, a fronte di un numero di ammalati gravi pari a quasi 3.500. Su fronte dell'assistenza territoriale invece la Regione Lazio si trova a dover affrontare il rifiuto dei medici di medicina generale all'assistenza domiciliare ai propri pazienti affetti da Covid. Lo ha ribadito il Tar del Lazio, una sentenza che ha ricevuto il plauso dell'Ordine dei Medici, che ricorda il prezzo già pagato al Covid dai medici di famiglia. E mentre la Regione annuncia il ricorso al Consiglio di Stato, incassa l'ok di 700 pediatri ad un impegno in prima linea nella lotta alla pandemia. Effettueranno tamponi ai propri piccoli pazienti nei propri studi o in centri allestiti ad hoc e si occuperanno di rilasciare certificati di fine quarantena. E oggi è anche il giorno del sì definitivo da parte del Consiglio dei Ministri alla manovra sul tavolo 38 miliardi, fondi anti-Covid e sgravi per il lavoro delle donne, ma per i sindacati tutto questo non basta. Augusto Cantelmi. Più soldi alla sanità per l'acquisto di vaccini e farmaci, sgravi fiscali e interventi per la famiglia e stoppa ai licenziamenti fino al 31 marzo. Dal Governo via libera la manovra economica da circa 38 miliardi. A partire dal prossimo luglio previsto l'arrivo dell'assegno unico per i figli fino a 21 anni, che ammonta circa 3 miliardi. Al fondo per la riforma fiscale invece saranno destinati in due anni circa 4 miliardi, previsti sgravi al 100% per l'assunzione delle donne e per le assunzioni dei giovani under 35. Quindi il piano per il Sud con gli sconti sui contributi per gli assunti, la proroga dell'ape sociale per le categorie a rischio e il rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale. Tra le voci principali è anche il rinnovo della cassa integrazione per oltre 5 miliardi e il nuovo fondo anti-Covid da 4 miliardi e per il prossimo anno destinati circa 400 milioni di euro per l'acquisto di vaccini e farmaci. Il testo della manovra dovrebbe arrivare in Parlamento nel corso della settimana mentre si intensificano i tentativi di dialogo con le opposizioni. Parliamo ancora del virus perché stando a una ricerca dell'Istituto Tumori di Milano il coronavirus sarebbe già stato presente in Italia a settembre del 2019. Luciano Piscaglia. Il coronavirus era presente e circolava in Italia già nel settembre 2019, diversi mesi prima della sua individuazione a Codogno. A rivelarlo è uno studio dell'Istituto dei Tumori di Milano, compiuto su campioni di sangue prelevati a 959 persone tra settembre 2019 e marzo 2020. Secondo la ricerca, gli anticorpi del coronavirus erano presenti in 111 delle persone esaminate e in una quindicina di loro già dal settembre dell'anno scorso. Questo significa che il virus circolava sotto traccia. Stiamo parlando dell'estate scorsa, quindi sappiamo che d'estate i virus sono più deboli, possono essere più facilmente indeboliti dal caldo, dagli agi ultravioletti. L'abbiamo visto quest'estate. In fondo ci insegna che anche le ondate successive possono in qualche modo essere tracciate. Quest'estate abbiamo avuto di nuovo un virus sotto traccia per qualche mese e poi ripartito con un picco pandemico nel mese di ottobre, col primo freddo. I risultati di un altro studio sono stati diffusi oggi, questo curato dall'Istituto Superiore di Sanità. Sulla base dei test sierologici effettuati su un campione di 7.000 persone di 5 comuni trentini, particolarmente colpiti dalla prima ondata della pandemia, i ricercatori hanno dimostrato la persistenza degli anticorpi che bloccano la proteina del virus. Se questi anticorpi sono davvero duraturi, riescono a persistere nei soggetti che hanno avuto la malattia, si potrà raggiungere quella famosa immunità di gruppo per cui la popolazione è in qualche modo protetta o da un'immunità naturale sviluppata perché ha contratto la malattia o dal vaccino che ne ha sviluppato gli anticorpi. Quindi è una notizia bellissima, speriamo di raggiungerla presto con l'aiuto tra l'altro dei nuovi vaccini che sembra essere veramente molto promettente. Regioni in sofferenza, la Calabria conosce finalmente il nome del nuovo commissario alla sanità, mentre la campagna lamenta carenze di personale medico e in Puglia sono proprio i medici a spingere per una chiusura totale. Poi da mercoledì l'Abruzzo sarà Regione Rossa. Luigi Ferraiolo. Arrivano 450 medici in campagna, soprattutto anestesisti, inviati dal governo dopo il duro scontro con De Luca. Infatti la regione da un paio di mesi cercava di assumerli ma non li trovava sul mercato. Adesso provvederà la protezione civile nazionale, mentre nel resto d'Italia le scuole passano in massa la didattica a distanza, in campagna invece De Luca pensa di riaprire quelle dell'infanzia e le elementari dal 24 novembre, salvo incremento dei contagi. Di certo l'Abruzzo chiede la zona rossa e nel frattempo emanerà una serie di provvedimenti restrittivi in vigore da mercoledì 18, in attesa della decisione del governo, tra cui anche la didattica a distanza per le scuole, come sta decidendo la Valle d'Aosta. Verso la zona rossa anche la Puglia, mentre la Liguria si oppone. Basilicata e Calabria fermano le scuole in presenza, di ogni ordine e grado. In Calabria si dimette anche il commissario della sanità Zuccatelli, sarà sostituito dall'ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, forse affiancato da Gino Strada. Zuccatelli si è dimesso su invito del ministro Speranza, intanto il governatore del Veneto, Zaia, testa di persona indiretta il campone fai da te. Andiamo adesso a Roma, dove abbiamo visitato un Covid hotel, ovvero si tratta di una di quelle strutture alberghiere in grado di ospitare persone positive al virus, ma con pochi sintomi, in modo così da poter alleggerire la pressione sugli ospedali. Beatrice Bossi. Dal ristorante la psicologa incoraggia i suoi pazienti, il magazzino è diventato una farmacia e la sala conferenze, il centro operativo dei medici. Siamo in un Covid hotel, sul pavimento i segni dei percorsi dedicati e nei corridoi infermieri intutanti virus. Sulla porta un cartello vieta l'ingresso e in terra ci sono le buste che qualcuno ha portato ai propri familiari ricoverati. Che cosa ha lasciato? A mia madre ho lasciato praticamente una felpa e un pantalone, che oggi è un'uscita dopo 15 giorni di albergo Covid. Come è andata? È andata benissimo, l'albergo ha detto che è stato benissimo. Questo albergo 4 Stelle in tempo di pandemia si è trasformato in presidio sanitario. 150 stanze e una novantina quelle occupate. Siamo nella periferia ovest di Roma, in uno dei 15 Covid hotel del Lazio, una valvola di sfogo per tutto il sistema sanitario. All'interno del Covid hotel vengono ospitati pazienti Covid positivi che non riescono a mantenere l'isolamento fiduciario a domicilio o vengono dimessi in continuità di cura dalle strutture ospedaliere. Mentre arriva un altro paziente da ricoverare, raggiungiamo al telefono Valentina, infermiera di 27 anni, in isolamento in una stanza da 17 giorni. Prima di tutto come stai? Io sto bene, posso dire che sto abbastanza bene adesso. Uscita da qui tornerai in ospedale? Tornerò sì, subito in servizio. Non siamo in pochi, a dire la verità, di aver contratto il virus, per cui serve anche una mano in più ai colleghi. Messe a porte chiuse al santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, l'arcivesco di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, parla di situazione drammatica. Praticamente tutta la comunità ha fatto eccezione di tre frati e al momento contagiata dal coronavirus. Molti di questi frati sono poi con sintomi. Entro l'anno arriverà anche il vaccino dell'azienda americana Moderna, pronta a consegnare 20 milioni di dosi negli Stati Uniti entro fine dicembre. Intanto in Europa prosegue il contagio, ma segnali positivi arrivano dalla Francia, dove sembra che le misure adottate stiano avendo effetto. Barbara Masulli. La notizia che lascia intravedere uno spiraglio di luce ai francesi la dà il ministro della salute, Verand. Crediamo di aver superato il picco e di aver ripreso il controllo dell'epidemia, ha detto. Grazie al lockdown scattato a fine ottobre, oltre al per il virus comincia a circolare meno. Per dieci giorni consecutivi infatti il numero di nuovi casi è diminuito. Anche in Gran Bretagna si registra una stabilizzazione dei contagi e l'indice RT si attesta fra 1 e 1,2. Le brutte notizie però riguardano il premier Boris Johnson in isolamento dopo aver incontrato un deputato, risultato poi positivo. Il primo ministro che Covid se l'è già preso la scorsa primavera non ha sintomi e ha detto di stare bene. In Germania non c'è ancora una svolta, ma abbiamo spezzato la dinamica dei contagi, ha detto Angela Merkel. Allerta alta invece in Austria dove da domani e fino al 6 dicembre scatta il lockdown totale. Intanto il cancelliere Sebastian Kurz ha pianificato uno screening di massa per poter garantire la riapertura delle scuole e le feste di Natale. Ma a catalizzare con un annuncio l'attenzione del mondo intero oggi è stata l'azienda americana Moderna. Il suo vaccino ha un'efficacia del 94,5%, quindi anche superiore a quello della Pfizer, fermo al 90%. La differenza più importante fra l'antidoto al Covid della Pfizer e quello di Moderna però riguarda la temperatura del loro mantenimento. Mentre il vaccino della Pfizer richiede una conservazione a meno 80 gradi, il farmaco di Moderna rimane stabile a temperature fra i 2 e i meno 8 gradi per 30 giorni e a meno 20 fino a 6 mesi, dunque è molto più facile da conservare. Negli Stati Uniti appare sempre più complessa la transizione alla nuova presidenza. Trump infatti torna a mandare messaggi poco concilianti. Massimiliano Cochi. Donald Trump a Washington gioca a golf e affila le armi per la battaglia giudiziaria con la quale vuole restare alla Casa Bianca, mentre su Twitter rivendica la vittoria e minaccia il ricorso alla Suprema Corte. Per quelle che definisce le elezioni più fraudolente della storia, i suoi avvocati continuano a sfornare ricorsi contro presunte irregolarità nel conteggio dei voti, ma la maggior parte sono già stati respinti o dichiarati inammissibili. Una strategia che, al di là del clamore, non sta producendo risultati. Per questo è stato richiamato in servizio un duro come l'ex sindaco di New York, l'avvocato Rudolf Giuliani, soprannominato lo sceriffo. Sarà lui da ora a guidare la macchina legale di Trump. Nel frattempo a Wilmington, in Delaware, quartier generale della campagna elettorale democratica, Joe Biden e la sua vice Kamala Harris lanceranno un piano di lungo termine per la ripresa dell'economia americana devastata dalla pandemia. Tra gli obiettivi ci sono la creazione di almeno 11 milioni di posti di lavoro e la lotta alle disuguaglianze economiche e sociali accentuate dalle conseguenze del virus. Il presidente eletto dunque ha già lavoro per il futuro, anche se c'è ancora da affrontare una transizione che si annuncia la più difficile nella storia degli Stati Uniti. Speravamo in un'altra storia quando nel 2018 Etiopia ed Eritrea firmarono l'accordo di pace. Sono le parole di padre Moses Zerai, missionario eritreo e attivista originario di Asmara. La situazione è ingestibile e i raid delle ultime ore stanno costringendo milioni di persone a fuggire. Da qui l'appello affinché la comunità internazionale intervenga. Subito. Parliamo adesso di incidenti stradali. 74 su 100 dunque la gran parte avviene in città a rilevarlo in uno studio dell'Automobile Club d'Italia. Francesco Durante. Oltre 35.500 incidenti, 257 decessi e più di 58.500 feriti. Lo studio dell'Automobile Club d'Italia riferito al 2019 rivela che 74 incidenti stradali su 100 si sono verificati nei centri abitati, 5 in autostrada e 21 sulle strade extraurbane. Proprio su queste sono in aumento rispetto allo scorso anno i decessi degli utenti vulnerabili, ovvero quelli maggiormente a rischio. In particolare un morto su tre, un ciclista, un pedone o un motociclista. Si confermano come strade più pericolose alcune grandi arterie vicino alle città, come il tratto urbano della 24 nella capitale e la tangenziale nord di Milano. La situazione è sempre a livelli preoccupanti, anche se nel complesso su tutta la rete viaria incidenti e mortalità rimangono stabili o leggermente in calo. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e quindi bisogna effettivamente assumere questa scelta come un fatto impegnativo sia per le persone ma sia anche per le istituzioni. Il venerdì è il giorno in cui si verificano più incidenti, mentre la fascia oraria più critica è dalle 18 alle 20. Gli spostamenti e le partenze nei fine settimana influiscono in modo particolare sull'incidentalità che raggiunge le punte maggiori tra giugno e luglio. In occasione del quarantesimo convegno dei movimenti per la vita, Papa Francesco in un messaggio ha espresso apprezzamento per l'iniziativa e ricordato il valore inestimabile della vita di ogni essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio Padre. Parliamo adesso di ambiente perché oggi, nel quinto anniversario degli accordi sul clima di Parigi, 47 istituzioni religiose lanciano un appello affinché i capi di Stato prendano impegni a favore dell'energia pulita. Paolo Fucili. Un sì convinto e concreto alle energie rinnovabili è il messaggio di 47 istituzioni religiose, cattoliche, protestanti e ebraiche di 21 paesi lanciato oggi, quinto anniversario degli accordi di Parigi sul clima. Messaggio potente perché non si tratta di parole soltanto, ma di fondi disinvestiti dall'industria dei combustibili fossili. Come già hanno fatto 400 altre sigle religiose su impulso anzitutto del laudato sì di Papa Francesco. E nell'elenco delle 47 di oggi ci sono il Forum Internazionale di Azione Cattolica, l'Unione Mondiale e Organizzazioni Femminili Cattoliche, la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, l'American Jewish World Service e le Chiese Anglicane e Metodiste del Regno Unito. Obiettivo metter pressione ai leader politici e ai loro impegni per l'energia pulita. Mentre la politica si aggrappa ai modelli economici di ieri, i leader religiosi guardano avanti, sottolinea una nota con l'apprezzamento anche del direttore esecutivo del programma ambientale dell'ONU. Il potere economico delle istituzioni religiose, ha detto Inger Andersen, può essere un importante motore di cambiamento in positivo. Di ambiente, energia, economia si parlerà anche fra giovedì e sabato prossimi ad Assisi, in collegamento online fra 2.000 giovani di 120 paesi. L'economia di Francesco è il titolo dell'evento. Allerta, torno allo strombolo, il vulcano questa mattina è tornato a deruttare con una forte esplosione del cratere e una nube nera e pioggia di cenere sull'isola. Molte abitazioni sono state ricoperte da materiale piroclastico. Partita la prima missione operativa della NASA dopo lo storico lancio di prova dello scorso maggio che portò sulla Stazione Spaziale Internazionale due cosmonauti restituendo agli Stati Uniti. La possibilità di lanciare una navicella spaziale dal suolo americano con un razzo made in Stati Uniti nove anni dopo lo Space Shuttle. La capsula lanciata oggi ribattetata a resilienza con a bordo quattro astronauti partita da Cape Canaveral. Domani compie 70 anni Carlo Verdone, interprete di tanti volti indimenticabili della commedia all'italiana. Fabio Falzone l'ha raggiunto per noi. Se dovessimo pensare un po' a una colonna sonora di questo compleanno, quale potrebbe essere secondo te? Una canzone di Bruce Springsteen che si chiama Born to Run, nato per correre. In realtà è stata una corsa incredibile, nata nel 77 in un piccolo teatro di 50 posti in via Alberico II e continuata fino ad oggi. Consiglio una volta sola che mi auguro si possa vedere al più presto sugli schermi. Ho cercato sempre di stare al passo dei cambiamenti della società, del linguaggio, del costume, cercando di raccontare quello che potevo raccontare attraverso una commedia fatta di risate e anche ogni tanto un po' di malinconia che appartiene un po' al mio carattere. Si sa che ha un lato un po' leopardiano. Usiamo questo aggettivo. Come ci salutiamo? Ci salutiamo così, insomma. Ci apprezziamo a distanza, dai. Gli ho dato tanto, gli ho dato tutto. Gli ho dato la risata, la battuta, l'ofa mostrano, gli ho dato la malinconia, gli ho dato io l'orellare, gli ho dato Benedetta Follia, gli ho dato un sacco bello, gli ho dato... Dai, su, gli ho dato tanta roba. E tutto il giornale termina qui. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci. Grazie.